Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E abbiamo bisogno di un aiuto vero, concreto, reale. E allora insieme a noi, caro Enrico Letta, aiuti Fabrizio per il suo viaggio, il viaggio della vita, un viaggio della speranza. E allora concretamente, caro Enrico Letta, aiuti questa famiglia. Si stanziano ogni giorno. Milioni di euro, non ne servono tanti. Sono tanti per questa famiglia. Sono nulla per il governo. Padre coraggio, che come tante mamme non si arrendano, non si fermano, non abbandonano. Non lo faccio neanche lei. Grazie. 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 Grazie.